buongiorno sono denis cappellini da qualche mese pratico speed hiking quindi escursionismo a passo veloce e in discesa ci sta anche qualche cosa oggi sto per arrivare in piazza delle penne nere a montoglio per iniziare il percorso che si chiama dorsale delle frazioni o dorsale giuliani in onore del suo ideatore renzo giuliani il percorso mi condurrà da montoglio verso parona quindi la mia destinazione finale parola passando da novaglie poiano avesa e quinzano arrivato parona farò un bel dietro front e ripercorrerò la dorsale in senso contrario per ritornare al punto di partenza a montoglio mi aspetto circa una trentina di chilometri migliaia di metri di dislivello positivo visto che di strada ne abbiamo un bel po da macinare che dire partiamo grazie a tutti 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 ed fåci qua arrivati Rotonda di Parona quindi metà percorso l'abbiamo fatto un minuto di pausa e poi si torna indietro Grazie per la visione 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 Grazie per la visione